ciao cari follower benvenuti sul mio canale prima di tutto miei cari follower non dimenticate di iscrivervi al mio canale di mettere mi piace al mio video e di condividere i vostri pensieri con noi nella sezione commenti una delle serie tv tour che da record si è conclusa con il suo finale e poi sono stati svelati i segreti dietro le quinte della serie oltre ad acquisire un'ampia base di fan la serie ha dato una direzione alla vita privata degli attori principali sila turcoglu e ali libraim ceyan sila turcoglu e ali libraim ceyan che hanno condiviso la storia romantica dei personaggi che hanno interpretato con successo durante la serie sono stati spesso visti insieme dopo la fine della serie tuttavia al termine della serie i fatti dietro le quinte rivelano una serie di eventi che sorprenderanno il pubblico nel punto in cui il discorso del regista è stato uno degli argomenti più curiosi il regista ha annunciato di essersi posto una condizione per sviluppare ulteriormente la sua relazione con ali libraim ceyan dopo che ila corneroglu ha lasciato la serie la condizione era che ali libraim ceyan continuasse a lavorare professionalmente per tutta la serie e non causasse problemi sul set il regista ali libraim ha dichiarato che ceyan ha accettato queste condizioni e ha contribuito al completamento con successo della serie vedere l'amore della coppia continuare dopo ha reso felici sia il pubblico che i fan della serie sila turcoglu e ali libraim ceyan si sono riuniti dopo il finale della serie e hanno ulteriormente rafforzato la loro relazione grazie per aver guardato il mio video spero di vederti in nuovi video arrivederci